ed ecco la partenza parte in questo momento il rally internazionale della lana l'ottava edizione tabaton sul podio ho davanti a me sneers con una 037 la 037 numero 3 certamente una una macchina veramente molto bella da vedersi partito anche tabaton ed ecco sneers che si appresta a salire ci sono molti svizzeri anche in questo rally della lana e quanto valido anche penso che la telecamera sta inquadrando la ferrari ma la scusate la 037 ma dietro chiaramente l'attenzione calamitata da frederico romezzano che sta così cercando di strada strammatizzare un attimino il il momento ecco tramezzino con questa open manta 400 attenzione all'applauso chiaramente ormezzano pilota di casa sempre attesissimo al rally della lana per tramezzino c'è la possibilità di inserirsi in un discorso di vertice ed ecco anche a ormezzano che parte e se ne va è passato dallo speaker e già c'è un primo c'è un primo guaio per giorgio giorgio che nella biela corse un biellese e si è comportato veramente meravigliosamente giorgio salendo sulla pedana proprio qui davanti a me ha rotto lo spoiler toccando la pedana per cosa ma per professionismo direi non certo per divertimento e rambelli è un esperimento che sta portando avanti la ford come come nuovo pilota grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.